In Veneto risiedono quasi 510.000 stranieri, più del 10% dell'intera popolazione regionale. Uno su quattro è romeno, altre nazionalità particolarmente rappresentate sono Marocco, Cina, Albania e Moldavia. Questa comunità eterogenea rappresenta una componente fondamentale in una regione in cui tra gli italiani si contano più decessi che nascite ed è negativo persino il saldo migratorio. Ma soprattutto l'evento interessante è che l'immigrazione di stranieri in Veneto è molto cambiata rispetto a 20 anni fa. Abbiamo meno nuovi arrivi per lavoro, quindi quelli che ci sono sono o persone che hanno trovato lavoro 15-20 anni fa, oppure tra i nuovi arrivi ricongiungimenti familiari e motivi umanitari. Quindi è cambiata anche la composizione, ci sono molte più donne, molte più famiglie con ovviamente diverse esigenze. Le nuove esigenze, sottolineano CGL e Cislewil, sono quelle di garantire uno sviluppo armonico del tessuto sociale ed economico veneto, rafforzando i percorsi di inclusione e di integrazione. L'emergenza che è immersa anche adesso nell'accoglienza della popolazione ucraina, al quale giustamente va tutta la nostra solidarietà e tutto il nostro appoggio, deve servirci anche da insegnamento per cambiare le nostre politiche riguardanti la migrazione, da politiche emergenziali a politiche strutturali. Certo, l'arrivo di profughi per la guerra in Ucraina rappresenta un evento eccezionale, ma ciò non toglie, secondo i sindacati, che l'approccio ai nuovi residenti debba essere più votato alle politiche sociali. L'abbandono scolastico tra gli stranieri, ad esempio, è quadruplo rispetto agli italiani. Abbiamo un tavolo con la regione in consulta, appunto, immigrazione del Veneto. Aspettiamo altri tavoli sempre su questo tema, anche nel tema, per esempio, attuale della tratta che può riguardare la recente entrata delle donne e dei bambini ucraini in Veneto in seguito alla guerra.